Burian è arrivato anche nel capoluogo, ma per ora con una violenza minore di quella attesa. La macchina antineve del comune, largamente allertata, è stata efficace su tutta la città. Dalle prime ore del mattino, infatti, il traffico è stato scorrevole, grazie alla pulizia delle principali vie di comunicazione. La chiusura delle scuole ha contribuito non poco a limitare il traffico, ma anche il caos cittadino. Il comune sta operando con 7 mezzi spartineve e spargisale e 7 mezzi di ditte private convenzionate. Sono 20 gli operai del settore opere pubbliche a lavoro in città. La sala operativa antineve è attiva con il suo numero telefonico 0862645590 per eventuali segnalazioni. Per tenersi informati sulle previsioni meteo e verificare anche le condizioni, si può andare sul sito web istituzionale del comune dell'Aquila, www.comune.l'aquila.it, dove c'è anche la presenza di eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse. La temperatura di sotto dello zero è prevista in discesa con l'arrivo della notte. Il grande pericolo è infatti ora il ghiaccio. Nel centro cittadino, piuttosto ordinato nonostante la neve, c'è intanto chi torna a rinnovare una storica tradizione dell'imbiancamento del capoluogo. La discesa libera sulla scalinata della Basilica di San Bernardino. Peccato però che nella mattinata di oggi gli aquilani se ne siano visti pochi, fatto salvo qualche famiglia con i piccoli. A compensare però e a tenere alto il morale della città più imbronciata d'Abruzzo, sono stati gli studenti. No, no, rimedi! Aspetta, aspetta!